Le nuove hospitality tv Samsung offrono un nuovo concetto di innovazione sviluppato in 5 step. Step 1. Personalizzazione dei display di ogni camera. Grazie al menu completamente personalizzabile, è possibile inserire nella home il logo del proprio hotel da mostrare agli ospiti. Gli hotel possono mostrare informazioni relative alla struttura e fornire agli ospiti l'accesso rapido a funzioni del tv di uso frequente. Step 2. Gestione centralizzata dei contenuti. Se combinati con Samsung Link Reach 4.0, tutti gli hospitality display Samsung si trasformano in hub informativi ed intrattenimento. Link Reach 4.0 permette ai manager di controllare in remoto i display attraverso un server centrale, trasformandoli in hub all-in-one per la gestione di contenuti, canali tv, informazioni in real-time, previsioni del tempo, orari dei voli e fatturazione. Step 3. Aggiornamenti tramite rete IP. Con Link Reach 4.0, gli hotel manager possono fornire servizi unici sia su rete IP che su infrastrutture coassiali. Durante la fase di check-in, il server dell'hotel comunica i dati degli ospiti al server Link Reach per creare messaggi ed impostazioni personalizzate. Mentre gli ospiti si apprestano a lasciare le camere, sul display vengono visualizzate le opzioni di check-out rapido. Aggiungendo un dispositivo CMTS, si possono veicolare contenuti IP ai display nelle camere attraverso una rete coassiale esistente. Step 4. Condivisione dei contenuti mobile sulla TV della camera. Tutte le ospitali TV Samsung su rete IP permettono agli ospiti di condividere sul display della camera i contenuti del proprio dispositivo mobile. Inoltre, i display ospitali TV offrono un sistema di riproduzione musicale via Bluetooth. Step 5. Controllo e gestione dei contenuti centralizzato e automatizzato. Il software Link Hospitality Management Solution è la più moderna soluzione per la gestione alberghiera e permette di creare un'esperienza personalizzata per i propri ospiti. I display hospitality funzionano come un hub di controllo direttamente nelle stanze, comunicano con i dispositivi mobili degli ospiti e sono connessi ai server Link HSM degli hotel. Ciò permette di contenere i costi di gestione e di ottimizzare il flusso di lavoro dello staff. Per ottenere la migliore esperienza ed usufruire di tutti i benefici discritti, i Samsung Hospitality Display sono progettati per migliorare l'esperienza d'uso degli ospiti in termini di intrattenimento e informazione. Questo è il nuovo concetto Samsung di Hospitality TV come contenitore di innovazione.